dimmi che cos'è il sole il sole è una grande lampada una palla di fuoco il sole è una palla di fuoco ho disegnato un sole poi ho detto ci potrebbe essere vicino anche una luna e ci ho disegnato vicino anche una luna e ci ho disegnato vicino anche una luna di fuoco e poi cosa ho pensato che ci potrebbe essere anche la terra e ci ho disegnato vicino anche una luna di fuoco e ci ho disegnato vicino anche una luna di fuoco e ci ho disegnato vicino anche una luna di fuoco